In rete ci sono video normali e video di fantasmi. No beh, avrete già capito che una delle due cose non esiste. Esatto, i video normali sono una farsa. Nessuno è normale in rete, tiriamo sempre fuori il peggio di noi. Pensavate dicessi che i video di fantasmi non sono veri? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica. È vero, molti sono i video con falsi avvistamenti di spiriti, ma alcuni sono così strani, precisi e lucidi che hanno creato storie incredibili che si sono spesso tramandate. Quindi piuttosto che dubitare e basta, oggi andremo a vedere alcuni video inquietanti che non vi faranno dormire la notte. E dopo potremo tutti commentare se siano veri o meno. Dopo che saremo al sicuro sotto le nostre coperte del letto. L'unico posto in cui i demoni non possono entrare, funziona così di solito. Se alla fine del video avete gradito e volete un'altra serie, mettete un bel like per farmelo capire. E se siete seduti o sdraiati, ho una mezza via quindi seduraiati partiamo. Numero 8 Tutti abbiamo avuto paura almeno una volta della nostra stessa casa, il posto in cui ogni giorno viviamo e mangiamo e dormiamo. Prima che cominciasse la quarantena eravamo sempre fuori per via del lavoro e della scuola e tornavamo giusto per mangiare e dormire o riposarci la sera, sul divano con la famiglia. Per questo motivo non è un posto sotto il nostro controllo 24 ore su 24, specialmente la notte, momento in cui non si dovrebbe udire niente. Eppure qualcosa succede nella maggior parte delle case, come per l'utente Bleach Pong. Ha raccontato su Reddit che di tanto in tanto sente dei suoni strani provenire dalla stanza meno visitata da lui e i suoi fratelli ora che sono cresciuti. Un tempo era la camera in cui emettevano tutti i giocattoli, specialmente Lego di cui fanno parte anche i Bionicle, modellini abbastanza famosi e venduti. Durante una delle solite nottate tranquille entrambi hanno sentito di nuovo quel rumore, ma più forte e intenso. Come se qualcuno avesse buttato giù ogni cosa, come potete vedere in effetti è così. Come hanno fatto quei giocattoli a cadere? Erano abbastanza increduli, ma l'aspetto più terrificante di tutto ciò è il loro Bionicle più grande, mentre tiravano su qualche giocattolo si era mosso da solo. Alcuni hanno detto sotto il post che il modellino era elettronico o comunque possedeva un meccanismo per poter ruotare, ma Bleach Pong aveva postato una foto per dimostrare che non era così. Quel Bionicle non aveva nessun meccanismo e non era elettrico. Si è mosso completamente da solo. Qualcuno o qualcosa li stava osservando. E forse da molto tempo. La casa in realtà non ha una storia alle spalle. È stata costruita dieci anni fa su richiesta dei loro genitori. L'unico mistero era il terreno in cui era stata eretta. Non si sapeva quasi nulla e tutte le carte erano state distrutte e rifatte da zero. In questo modo nemmeno una traccia di storia esisteva. Chi o cosa sarà, succederà di nuovo. E voi? Avete mai sentito qualcosa la notte? Avete mai avuto la sensazione di essere osservati mentre dormivate beati? Magari proprio adesso vi stanno fissando alle spalle? No, non vi girate, continuate il video e basta. Numero 7 In un ristorante chiamato Jimmy's World Grill & Bar nel Regno Unito succedono delle cose strane, spaventose forse. I dipendenti che rimangono la sera tardi a volte hanno paura. Paura perché sentono dei suoni provenire da un punto preciso, dove si trova un tavolo preciso. Non si sa perché ma quasi ogni mese almeno due volte sembra qualcuno stia mangiando. Facendo rumore con le posate, che poi vengono ritrovate completamente in ordine, con solo una sedia leggermente spostata. Ovviamente nessuno voleva crederci e tutti pensavano fosse per la stanchezza. La sera si fa sentire prima della chiusura siamo tutti ansiosi di andarcene basta a casa dai nostri cari, ma un inquietante video è stato filmato stavolta durante l'ora di pranzo, momento in cui molti clienti erano presenti. Una ragazza stava mangiando e dopo aver finito qualcosa era successo al suo tavolo. E quel qualcosa quest'altra donna sembrava averlo sentito. Il video non è stato messo da qualche strano sconosciuto in rete ma dal canale ufficiale del ristorante stesso, che ha chiesto spiegazioni agli utenti per capirne di più. Pure in questo caso l'edificio di per sé non aveva niente di particolare, nemmeno una storia alle spalle da film horror, però chissà. Non possiamo sapere tutto quanto al 100%. Magari qualche essere umano secoli fa poteva aver avuto dei problemi seri che non è riuscito a risolvere e questi problemi coinvolgevano anche la zona del ristorante. Mi raccomando, avete il turno di notte e cercate sempre di non guardarvi troppo alle spalle. E se sentite dei rumori, beh, tornate a casa. Anche di giorno possono succedere davvero tante cose. A volte filmare un'attività si rivela fondamentale. In questo modo possiamo rivedere giorni passati che altrimenti rischiamo di dimenticare, scoprendo poi piccoli dettagli che era meglio non notare. Questo ragazzo si stava divertendo sul suo trampolino. La registrazione era stata fatta molti mesi prima di essere riguardata. La prima volta che l'avevano vista, cioè subito dopo aver filmato, non era emerso nulla di strano. Nessuno ci aveva fatto caso, ma poi, beh, poi qualcosa era apparso. Come potete vedere si può notare una figura inquietante camminare. Un qualcosa di fuori dall'ordinario. Nessuno aveva compreso la situazione, né il ragazzo né la sua famiglia. I giorni erano passati e si chiedevano se in qualche altro filmato ci fosse traccia di lei, ma non avevano fatto niente, non volevano saperne di più. Volevano solo seppellire nella loro testa per sempre quello che avevano visto, quasi per sbaglio, e sperare non tornasse più nella loro vita. Numero 5 Due guardiani notturni si sono ritrovati a vivere un turno di lavoro davvero spaventoso. Uno di essi è l'utente di Twitter che ha pubblicato il video, che è passato da Reddit facendo dubitare alcuni e spaventando molti. Mentre sorvegliavano lo stabilimento, delle luci hanno cominciato a spegnersi e accendersi freneticamente. Ma la cosa più spaventosa era una porta che continuava a sbattere violentemente. Immaginate di essere voi al loro posto, cosa avreste fatto? Nonostante il pericolo, sono andati diretti a vedere il problema. In fondo è il loro lavoro e il loro compito, e lo è tutt'oggi e non possono tirarsi indietro. Vengono pagati per questo e se succede qualcosa di storto, che rischia di rovinare magari degli impianti, possono essere licenziati subito. Alla fine non sono riusciti a capire cosa fosse, sono rimasti increduli. Le luci si erano spente un'ultima volta e hanno dovuto riaccenderle, ma niente da fare. Qualunque cosa fosse se ne era andata, e chissà se farà ritorno. Niente di strano, vero? Non sembra possa succedere qualcosa, eppure quando qualcuno mette online delle registrazioni del genere lo fa per un motivo ben preciso. In un ufficio a Manchester, sempre nel Regno Unito, le telecamere di sicurezza hanno ripreso delle strane attività, come maniglie che si muovono. Ombre che si possono intravedere per pochi secondi, o cose più evidenti. È stata una nottata folle. Il guardiano che era presente in quel momento non era in grado di tenere dietro tutte le telecamere, e quindi non riusciva a vedere tutto mentre avveniva. La mattina dopo aveva deciso di ricontrollare ogni registrazione per essere sicuro, e capire come mai alcune cose fossero fuori posto, scoprendo che forse la notte non sarebbe più stato in grado di fare come si deve il suo lavoro. Era spaventato come non mai. Cosa poteva essere? Perché alcuni monitor si accendevano da soli? Numero 3 Ci sono posti nel mondo abbandonati da tempo che sembrano ospitare esseri soprannaturali che infestano tutto, creando a volte una paura incredibile, e li vedremo più avanti. Ma non soltanto quei posti. Anche un semplice supermercato potrebbe diventare un luogo inquietante come questo in messico. La qualità non è il massimo perché è stato registrato moltissimi anni fa, ma come potete notare alla fine una bambina si è messa a correre, uscita praticamente dal nulla. Nessuno l'ha notata, nessuno sapeva fosse lì. Non ha nemmeno urtato contro la dipendente che sembrava del tutto ignara. Quest'ultima e la ragazza che stava filmando si sono accorti solo giorni più tardi della presenza di una persona che non doveva essere lì. Il negozio in quell'ora era vuoto. Durante l'ora di pranzo in pochi entravano e per di più non c'erano genitori in giro. L'avevano mostrato anche al loro capo che però pensava fosse una stupidata e una trovata ridicola per spaventarlo. Era abbastanza in confidenza con loro quindi si aspettava una risata alla fine. Ma niente, nessuna delle due rideva. Da allora non è più accaduto niente. Da allora nessun'altra bambina era tornata in quel negozio. Numero due. Durante un controllo un operatore di volo aveva sentito qualcosa. Era andato a vedere dentro l'aereo. Il suo lavoro consiste nel tenere tutto in ordine e far trovare un luogo sicuro e pulito sia per passeggeri che per piloti e hostess. Che avrebbe mai detto però si sarebbe ritrovato a correre impaurito da qualcosa che sembrava osservarlo tutto il tempo per poi apparire all'improvviso. come avete visto una figura all'improvviso ha mostrato il volto completamente nera erano per caso dei capelli lunghi e neri quindi una donna o solo un'ombra. L'uomo era fuggito senza voltarsi. Non voleva saperne niente. Era solo in quel momento e si era rifugiato dentro il suo ufficio. Nessun altro ha più avuto a che fare con questo essere. Il rumore che aveva sentito quella notte sperava di dimenticarlo il prima possibile. Ma non è così facile quando riguardi certi video. Spero anche voi non avrete problemi e riuscirete a dormire. Se siete coraggiosi andiamo all'ultimo punto e ricordatevi di guardare tutto il video con le cuffie. Numero 1 Uno youtuber di nome Sakar El Masri sul suo canale porta contenuti alquanto inquietanti. Spesso e volentieri esplora case abbandonate o comunque edifici che hanno storie spaventose dietro. Una delle sue attività più condivise su internet riguarda l'esplorazione di una costruzione molto vecchia, rimasta incompiuta a causa di problemi tecnici. Ogni volta succedeva qualcosa di strano. Tra incidenti e altre sfortune come mancanza di materiale o terreno instabile. Voleva sapere cosa stava succedendo e aveva così trovato una presenza che gli ordinava di andarsene. In questo punto qualcuno lo stava osservando e se ne era andato immediatamente. L'uomo era spaventato e aveva cominciato a pregare, ma non era finita. Quella stessa figura si era mostrata più di una volta. Cos'è successo? Qual è la vera storia di quel posto? Forse è meglio non conoscerla e lasciar stare tutto. O forse siete tra i coraggiosi che non hanno paura di niente. Con questo concludiamo. Vi dirò, alcuni clip mi hanno davvero spaventato, molte altre ce ne sono su internet, quindi se volete un'altra parte mettete mi piace assolutamente, così capirò se è di vostro gradimento o meno e cercherò altri inquietanti video dalla rete. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Ciao